buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo il volume birra e birre autore luigi manzo editore libri sandit sono oltre 100 pagine dedicate alla birra dalla storia tante notizie sfiziose magari non si conoscono come nasce la birra come viene preparata le birre più importanti il volume è accompagnato da tante belle immagini curiose ed è un libro che può essere anche regalato agli amici a chi è appassionato di birra birra e birre luigi manzo editore libri sandit grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale vi aspettiamo per un prossimo nostro video grazie ancora